L'Abruzzo è sopra la media nazionale per numero di casi di violenza sulle donne. Una statistica che emerge dal quantitativo di denunce, che però è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte delle violenze infatti rimangono ferite che le vittime sopportano in solitudine. In Abruzzo paradossalmente c'è tanta e direi troppa violenza domestica. Quindi vuol dire che dobbiamo affinare le forme di tutela. Il nostro è stato un tentativo per far fronte a questo, anche al dato numerico, che come dice lei è emergenziale a mio parere. Quindi ognuno deve fare la propria parte. E la coabitazione forzata imposta dalle restrizioni Covid ha acuito quella che è una vera e propria emergenza sociale. Nei mesi di marzo e aprile 2020, in pieno lockdown, un omicidio su due in Italia è stato un femminicidio. Nel 90% dei casi l'assassino è il partner o l'ex partner. La prima fase della pandemia è nota, ormai ne parlano tutti, è stata una debacle sotto il profilo non solo dei morti, ma anche delle violenze soffocate nelle abitazioni. Io credo che, come tutte le cose, anche la giustizia si è adeguata alla pandemia. E credo che ha fornito quello che può essere ritenuto, secondo me, una prassi unica anche nel territorio nazionale. E una prassi, mi augurerei, anche esportabile altrove. Perché forse nessuno avrebbe sperato in tanta risposta valida, efficace e tempisticamente adeguata. Tre mesi fa al Tribunale di Pescara è stato inaugurato il GAV, il gruppo antiviolenza, che in questo tempo ha concluso un centinaio di casi. E grazie alla sinergia tra forze dell'ordine, servizi sociali e centri antiviolenza, ha detto il procuratore aggiunto. Noi abbiamo aperto un luogo, un luogo che, appunto, come vede lei, è accessibile ed è aperto sempre, con una reperibilità continua. E questo è stato un vero e proprio polmone di questa esperienza. È stata efficacissima, è stata un'esperienza di grandissimo successo, diciamo, processuale. Perché in pochissimi mesi, con un gruppo di lavoro dedicato, specializzato e soprattutto una risposta a 360 gradi, sono stati chiusi tantissimi, appunto, un numero francamente inaspettato, di casi umani e poi giudiziari sulla violenza in generale sulle donne e sui minori.